Buongiorno ragazzi questo è il video che vi mostro Vi mostrerò esattamente il tutto cazzo di gioco Quanto figata assurda Cioè intatto vabbè i mostri siamo fatti I migliori mostri probabilmente che abbiamo mai visto Mostri proprio mostri 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 schifosi brutti esseri Che abbiamo mai visto in un gioco E l'ambientazione parla da sé Cioè qua non si deve un cazzo ma certo Ok Vedete Qua fuori ci sono dei mostri Allora vediamo se ci sono uno Eccolo Allora questi brutti mostri con gambe, testi, teste Vengono fuori da una scatoletta Non so magari se becchi la scatoletta Ritorno al miglior mondo scatoloso E vabbè adesso io corro fuori Correrò fuori Conosco già questa parte E non ho voglia di mettermi a ammazzarvi tutti Anche perché è facile che ammazzerò ma Aspetta che ci sono i suoi Allora Il fiale del sangue in alto a sinistro 17 Vi ricarica l'energia premendo il triangolo E sotto colpi esplosivi per sparare con le armi a secondaria se le volete Se le avete da colpire così a distanza Se ne sono una fracca anche di armi più male O armi a due mani che fanno ancora più male Ma non avete un cazzo di difesa se questa è una cosa X Eh no Cerchio Ok Ho premuto su Per vedere uno come si è morto Vedo l'aspetto della morte Vabbè Le armi Gli oggetti veloci che vi volete mettere Che stanno qua in fondo Oggetti rapidi Adesso polveri mi do l'osso Mi do l'osso Serve per aumentare la potenza dei colpi esplosivi Adesso proviamo a andare a fare questo boss Che non ho mai visto, giuro Non ho mai visto Adesso capirà anche qua Corro Ciao 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 Via Ciao Via 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 e quindi vedete questi mega mostri qua in verità poi muoviono allora proviamo a fare questo boss dicevo che questo boss non l'ho mai fatto e non l'ho veramente mai visto solo che ci sono delle suore quelli che hanno la campana queste piante bastate a sinistra che dovrebbero richiamare a tutti perché il cacciatore e il maniente già ce n'è uno in giro e scopriamo e scopriamo e scopriamo e nelle porta prima di trovare il boss ci sono sicuramente ci sarebbe una nebbia spettrale che vi porterebbe di nuovo a quel boss ma essendo che non l'ho mai visto e non c'è quindi lo vedrò e lo vedrete per la prima volta infatti c'è anche il video cioè ambientazioni volete minimamente mettere no non ho visto eccole qua le mani detto bastate l'ho ammazzato questo qua e non siamo niente un po' che è non sa che è nata non sa che il boss è più orribile che abbiamo visto no vabbè sono morto perchè perchè non ho nessun giocatore vero troppo ne avevo richiamato uno ma è morto e l'ho chiamato nemmeno questi qua da ogni la vedo dura tanto però è impossibile probabilmente morirò al primo attacco che mi fa ok OELLA subito mi ho sparato è una s**tata di gioco assurta io voglio incidere se non si vengono si intanto fai te sa vorrei farmi qualcosa ma non so se io sto facendo perché vecchi è già tanto ho sbagliato mi fa 2.000 morti quindi potrei essere la prima che ci muoge perchè potrei fargli tantissimo male allora UELLA NO cos'è se c'è che giro un zodia allora prova forza troia cosa c'è mia no 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 è là forza ma roca via corri che è meglio corri che è meglio le schiamole là vedo bravo roca torre no così vale ok sono le scuore maledesse che stanno tirando così che già E' un po' di più. è un tipo di fisco ma lui si che bello no è incontrato è incontrato via è incontrato via andiamo via che è meno il tipo è praticamente morto non sono più cari che è morto spero che mi attacca a me attacca a me attacca a me attacca a me trasparisco se è stato qui ecco vedi vedete i nemici dopo un po' si bloccano se gli fate abbastanza male quindi vi godete ok quella no via 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 lui è morto però ma ma cazzo non ha che non ho visto che avevo le sono morti avevo non ne avevo più fiale quindi potevo in qualità giocarmela meglio e batterlo comunque ecco li battete come i nemici quando li battete vi gasate in un modo assurdo ha 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 e Grazie.